Un uomo pluripregiudicato di 55 anni è stato arrestato dalla polizia di Pescara con l'accusa di aver sottratto negli anni 25.000 euro a una donna ultra novantenne che vive in centro a Pescara, spacciandosi in particolare per tecnico del boiler. I familiari insospettiti avevano fatto installare un sistema di videosorveglianza nell'abitazione dell'anziana zia in cui si vede lo sconosciuto frugare tra le cose della nonina e parlarle e si sono rivolti alla polizia. In particolare nel febbraio scorso un'operatrice socio assistenziale aveva sorpreso la padrona di casa a consegnare la somma di 1.500 euro all'uomo che asseriva di aver fatto dei lavori al boiler dell'acqua calda per poi quest'ultimo darsi alla fuga senza aver preso i soldi appena ritirati in banca dall'ultra novantenne. A questo punto la polizia scientifica era riuscita a prelevare alcune impronte sul boiler e attraverso le indagini a identificare l'uomo con precedenti 55enne della provincia di Teramo residenti a Pescara. Dopo aver fatto vedere la foto dell'uomo alla testimonio oculare dell'ultimo tentato a raggiro, gli agenti lo hanno prelevato in mattinata e condotto in carcere. Dante Cosentino, capo della Mobile. Abbiamo trattato un caso dove è contrassegnato dall'assoluta mancanza di scrupoli di cui ha dato atto lo stesso giudice dell'indagine criminali al suo provvedimento, soggetto che per anni ha approfittato di una condizione di solitudine e dell'età avanzata della vittima per carpirne la fiducia, introdursi in casa e trafugarle una somma di denaro consistente oltre che gioielli, monili e quant'altro poteva arraffare. Abbiamo avuto più input, intanto bravi familiari che non hanno lasciato solo la loro parente e ci hanno segnalato delle anomalie. Bravi alla sezione che si è occupata della squadra mobile che si è occupata delle indagini, i reati contro il patrimonio e un piccolo colpo di fortuna anche dal contributo di un assistente sociale che andando a trovare la signora si è imbattuta nel malfattore. Vogliamo fare la raccomandazione che è sempre la solita ma quanto mai preziosa rivolta soprattutto alle persone non più giovanissime? State attenti, al minimo sospetto chiamate la polizia, se non potete chiamare la polizia che comunque non può essere ovunque, fate rete, fate rete con i vicini di casa, fate rete con i familiari. Per concludere questa persona era stata condannata già per reati dello stesso tipo? Aveva delle presenti condanne per reati contro il patrimonio, tant'è che nell'imputazione provvisoria le è contestata la recidiva che è un aggravante. Le indagini comunque proseguono per appurare se ci siano altre vittime.